Vogliono ammezzare le piccole comunità. L'obiettivo di Renzi è quello di eliminare la democrazia da questo paese, togliendo di fatto i sindaci il primo avamposto della democrazia dove i cittadini possono scegliere e votare, cercando di tagliargli i fondi, togliere servizi ai cittadini. Un sindaco mi raccontava che sono erano costretti quest'anno per chiudere il bilancio ad eliminare l'asilo, quindi un servizio alle famiglie. Noi invece ci battiamo per l'esatto opposto, ovvero ridare dignità, speranza e forza a quelle comunità che hanno permesso al paese di crescere, ai nostri cittadini di avere servizi e risposte dal pubblico. Evidentemente Renzi pretende che il suo partito decida chi deve governare, noi invece vogliamo che siano i cittadini a decidere.